E' stata approvata ieri in Consiglio Comunale la delibera riguardante la riqualificazione di Piazzale Cinelli, un progetto che però ha visto i voti contrari di otto consiglieri di centrodestra, tra cui quelli della Lega. A scaturire la richiesta di rinvio e valutazione in Commissione Urbanistica della delibera, diversi aspetti dell'operazione, tra cui in primis l'iter previsto per l'immobile ex dazio. A nostro parere l'amministrazione non ci ha guadagnato da questa operazione, ha concesso al privato di cambiare il tipo di intervento rispetto al piano regolatore con una variante a questo fabbricato che ci troviamo qui dietro, che è il fabbricato ex dazio, permettendogli di demolirlo e fare anche un eventuale piano casa con un aumento del 25%. In cambio l'amministrazione cosa ha avuto? Ha avuto 60.000 euro per sistemare questo piccolo parcheggetto, ha perso 5 posti auto e ha avuto un fabbricato a Trebbia Antico da ultimare. E' una piccola somma di denaro a nostro avviso. Se il Comune di Pesaro avesse venduto a 500-600.000 euro questo fabbricato e avesse monetizzato per fare opere pubbliche sicuramente i cittadini ci avrebbero guadagnato. Nel 2017, quando per la prima volta fu messo in vendita con un'asta pubblica, il bene che abbiamo alle mie spalle è un'asta andò deserta. Successivamente ci fu la possibilità da parte del Comune di avere in permuta rispetto al bene che vediamo oggi nelle condizioni in cui è, un edificio nuovo, un immobile nuovo locato a Trebbia Antico, quindi un immobile che diventerà poi centrale all'interno della programmazione di rigenerazione urbana. L'ultimo intervento riguarda appunto questa sdemanializzazione di una parte di questo piazzale, che definirlo piazzale oggi è un po' ambizioso. Sono cinque posti auto che verranno ceduti e alienati al proprietario dell'immobile in cambio di 130.000 euro e questi 130.000 euro verranno utilizzati per riqualificare tutta la zona che è alle mie spalle. Riqualificarla significa creare una vera e propria piazzetta, una piazzetta di fronte a una zona centrale perché siamo tra l'ospedale San Salvatore e il centro storico di Pesaro, una piazzetta con un potenziamento dell'illuminazione, una piazzetta più sicura perché meglio adatta a frequentazioni che più si adattano in modo consono al luogo, inoltre una messa anche in sicurezza della pista ciclabile. Temi centrali nella discussione del nuovo progetto per piazzare Cinelli, anche la collocazione della nuova piazzetta e l'eliminazione di alcuni posti auto per la sua realizzazione. Proprio sul taglio di alcuni parcheggi anche il quartiere centro ha mosso delle osservazioni critiche. Il quartiere si era espresso denotando chiaramente quello che sarà il lavoro definitivo che andrà fatto e che riqualificherà sicuramente un'area importante della città, esprimendo una valutazione e alcune osservazioni rispetto a quelle che sono esigenze che verranno a mancare per i cittadini rispetto a quella che è la situazione esistente, ovvero un abbattimento importante dei parcheggi. Detto questo, chiaramente speriamo che questa sia stata un'occasione nella quale evidenziare anche attraverso il percorso che si è fatto l'importanza del lavoro dei quartieri. Noi non riteniamo che questa si possa considerare piazza, sarà uno spartitraffico nella sostanza. I personaggi loschi che spesso bivaccano qui all'ingresso dell'ospedale si sposteranno in questa nuova area che sarà più confortevole. Quindi a nostro parere non è una grande operazione, andava studiata meglio, rivista meglio e soprattutto nell'interesse dei cittadini fatta. Qualche parcheggio sicuramente verrà a mancare, verrà a mancare perché nel momento in cui si fanno delle scelte sulla pista ciclabile, su quella mobilità, si fa una scelta che predilizza un altro tipo di mobilità, anche se complessivamente quest'operazione ha un saldo positivo perché in questi anni sono stati ricavati nuovi parcheggi in prossimità di Via della Liberazione. Inoltre insieme al progetto Sprint e al bando delle periferie sono previsti ulteriori nuovi parcheggi. Quindi è un intervento che complessivamente vede un saldo positivo sul numero di parcheggi.